Un minuto, un solo minuto, per ascoltare, guardare, riflettere, tutto in italiano. A volte la vita ci fa vedere le stelle, ci mette davvero a dura prova. E noi vorremmo gettare la spugna, ma il nostro allenatore non vuole farlo. E ci dice, non gettare la spugna, non arrenderti. E noi, all'angolo, sul ring, diciamo, ai, sto vedendo le stelle. Però abbiamo ancora la possibilità di rialzarci, ora. Un italiano, con un italiano, in Italia.